Musica Telespettatori di Motostyle, un ospite d'eccezione questa puntata con noi, Raffaele De Rosa, lo sconnizio più veloce del mondo, impegnato nella Moto2. Benvenuto Raffaele. Ciao, ciao Alfred. Raffaele, la tua è una famiglia che da sempre ama i motori. Tuo padre Antonio è nato su una o due ruote e ha trasmesso a te questa passione. Sì, diciamo che l'ultimo periodo l'ho trasmessa io a lui. Lui da giovane è andato in moto, ma a livello professionistico è stato sempre un po' un amatore, andava in strada così, piaceva. E io invece gli ho trasmesso la passione per le corse vere. Infatti da quando ero da piccolo, diciamo da piccolo perché ho incominciato tardi, a 13 anni ho incominciato. Quindi ho messo un po' di tempo per convincere mio padre e alla fine ci sono riuscito a portarmi su una pista. Ricordiamo i primi passi in sella ad una o due ruote. La prima volta che sono andato in moto è stato su uno scooter, come diciamo un po' tutti incominciano alle prime armi. Con lo scooter fanno dei campionati malossi e io sono riuscito a fare, o l'ho vinto senza una gara mi sembra. Sì, l'ultima gara di primo anno. Mi ricordo perché io ti seguivo quell'anno. No, no, è stato subito molto divertente. Il passaggio alla 125 quando è avvenuto? All'inizio abbiamo cercato di bruciare abbastanza in fretta le tappe. È una carriera di un motociclista, ma penso come ogni sportivo a livello mondiale si intraprende da piccoli. È vero che la prima volta che hai messo ruota sul circuito di Binetto hai realizzato il record della categoria? Sì, sì, sì. Sul 125 GP abbiamo fatto il record a Bari, a Binetto. E come ti dicevo, di solito si incomincia ai 6, ai 7 anni con le mini moto. Noi abbiamo incominciato un po' più tardi, ai 13, quindi abbiamo dovuto svertire un po' tutte le pratiche. Cosa ricordi dell'esordio mondiale? La prima gara di campionato del mondo l'ho fatta in Inghilterra, a Doyington Park. Non è stata molto semplice. Che anno era? Il 2004. Non è stato molto semplice perché le competizioni a livello mondiale rispetto a quella di un campionato italiano sono molto ma molto alte. Il mio obiettivo era comunque di non essere doppiato. Invece di non essere doppiato io ho messo anche una decina di piloti dietro, quindi era andata più che bene. Non conoscendo la pista, non avendo mai fatto una gara così lunga, era andata più che bene. L'anno dopo passi per dopo nelle fila del team Matteoni e della prima stagione iridata che affronti. Sì, infatti noi abbiamo cercato di fare il nostro primo anno di mondiale perché comunque avevo 17 anni, quindi non era molto presto. Con mio padre dovevamo decidere se fare un campionato italiano europeo oppure fare il mondiale. Siccome le spese erano eccessive per questi sport, sinceramente se dovevamo investire l'abbiamo cercato di fare, abbiamo rischiato un po' di più, l'abbiamo cercato di fare a un livello mondiale. Però è andata molto bene perché comunque la prima gara di campionato del mondo io mi sono qualificato ottavo. Mentre i vari campioni, tipo italiani, europei, spagnole, che è il campionato un po' più impegnativo, erano dalla ventesima posizione in poi. Quindi siamo stati molto, già quell'anno ci siamo messi in evidenza più volte. Tanti sacrifici, poi dopo finalmente riesci ad avere un'apriglia semi-ufficiale. Il sogno mondiale era una spanna dall'essere aggiunto, poi cosa è successo? La categoria 125 quando ho incominciato era il mio sogno, piano piano siamo andati avanti, il sogno si è spostato un po' più avanti, un po' più là. Il primo anno è stato di esperienza, anche se abbiamo fatto qualche bella gara, siamo andati più volte a punti. Il secondo e il terzo anno erano di conferma, soprattutto il terzo anno avevamo le capacità per poter vincere, per poterlo perlomeno giocare. Purtroppo non siamo riusciti ad avere il materiale che serve per vincere e abbiamo fatto un po' di fatica, però spesso ci siamo messi in evidenza. Con l'Aprilia la politica non è semplice, ci sono molte moto, molti team e non è facile. La KTM per dopo ti ha corteggiato, ricordiamo la KTM che l'anno in cui ha puntato su di te, puntava su di te per vincere il titolo. Invece cosa successe da Raffaele? Purtroppo la KTM l'anno precedente aveva fatto un anno al vertice con altri due piloti, con la casa ufficiale, mentre dando ai team come privati la cosa era cambiata un po', hanno fatto una moto un po' più semplice da mettere a punto, però diciamo meno performante e quindi abbiamo avuto, anche essendo io la miglior KTM del campionato, comunque non è stato facile. Una piccola soddisfazione ce la siamo presi al Mugello dove abbiamo fatto la pole position. L'anno successivo, poi dopo c'è stato l'esordio nella classe 250, invece di un anno sabbatico, il tuo è stato un anno di grandi conferme e sei diventato campione del mondo rookie. Sì, l'anno che comunque poi mi sono divertito in più. Il 250 è stato bellissimo, anche penso che è una moto che ha 110 cavalli e pesa 100 kg, quindi il rapporto peso-potenza è… Superiore ad 1-1. Sì, quindi dà molta soddisfazione guidarla, anzi dà proprio impressione, le prime volte che ci sali su da un 125 rispetto a un 250 c'è molta differenza. Spesso dicono che c'è più differenza il 125 250 che un 250 e un 1000. Comunque è stato un anno bello perché la Honda è una moto semplice da usare, poi noi avevamo il materiale giusto, anche se era una moto comunque vecchia di 5 anni. Non c'è mai stato lo sviluppo, però io e il mio compagno di squadra dopo 4 anni che non vincevano la Honda, lui ha vinto il campionato del mondo e io ho vinto il rookie. Sì, infatti l'armata Aprilia è stata un po' presa… si è trovata un po' un attimo spiazzata da questa situazione. Quell'anno ricordo che tu spesso salivi sul podio insieme a Marco Simoncelli ed era bello vedervi abbracciati perché so che siete molto amici. Sì, sì, molti amici. Capita che ci andiamo a allenare insieme, mi invita un po' a casa sua e anche se quest'anno facciamo molto meno motocross, quindi ci vedremo un po' di meno. È stato bello perché le ultime 5 gare sono riuscito a fare solo due podi, però ne potevamo fare degli altri. Ho fatto anche una pole position a Filippa Island e è stato molto molto bello. Sempre nella 250 tu sei stato protagonista di un iSat con recupero che praticamente su YouTube impazza. Sì, sì, vabbè è stato al Mugello nelle qualifiche. Ecco, raccontaci queste fasi che adesso vediamo in onda. In pratica, come hai detto tu, stavo perdendo la gomma posteriore dando gas troppo presto e la moto in pratica ti dà uno sbalzo, ti fa saltare in aria dalla moto, come si vede un po' le classiche cadute. Però io sono riuscito, diciamo con lei, a stare appeso alla moto e alla fine mi sono trovato con la moto così e io ero appeso alla moto e sono riuscito a risalire. Ci ho provato la prima volta e la seconda volta ce l'ho fatta a risalire sulla moto. Poi erano gli ultimi 5 minuti delle qualifiche. Io sono entrato ai box perché comunque con il corpo avevo rotto parte della carena. e ho detto dai cambiate me ne un'altra, siamo entrati in pista e abbiamo migliorato ancora il tempo dopo quello che era successo. Quindi è stato bello. Una manovra alla mamola. Sì, sì. Poi dicono che mi è venuta un po' meglio. Sì, effettivamente la tua è più emozionante. Poi ecco, la nuova avventura della moto 2, una nuova classe che vede, ricordiamo ai nostri telespettatori, correre tutti i partecipanti con lo stesso motore, mentre vi è data libera interpretazione per quanto riguarda la struttura dei telai. Il tuo era un team tra quelli più blasonati, ricordiamo il Tech Troyes, da anni impegnato nella MotoGP, con Spice, Edwards, piloti sicuramente di primissima fascia. Tu, quando hai firmato per il team Tech Troyes, hai pensato sicuramente quest'anno vinco il mondiale. No, io sicuramente cambiando così la categoria non era semplice, perché sono cambiate molte cose. Proprio anche lo stile delle corse è cambiato. Da due tempi si è passato a quattro tempi. Da due tempi a quattro tempi, un po' come è successo alla MotoGP. Però a noi è stato basato per limitare soprattutto i costi. Quindi sono delle moto meno performanti, c'è meno differenza tra le moto, e si deve anche meno sforzo nella messa a punto, ci sono meno cose da mettere a punto. Il 250, diciamo, ti formava un po' di più. Invece con questa categoria c'erano molti punti interrogativi, come le gomme, il telaio, che comunque è una delle parti più importanti del motore. Infatti l'anno scorso avevamo l'onda, che secondo me il telaio andava molto molto bene. Magari il motore era qualcosina in meno, però con la ciclistica riesci a sopperire quel 1-2 cavalli, mentre se con la ciclistica non riesci ad andare, non ne perdi 2-3, ne perdi di più. Quest'anno è stato difficile perché il progetto c'era, le idee anche, la squadra era ottima, le persone che ho lavorato, anche il mio capo tecnico, Romagnoli, erano tutte... Ex capo tecnico di Orghe Lorenzo, lo diamo. Sì, di Edwards, erano tutte persone in gamba, sono tutte persone in gamba. Il problema è stato un po' l'impegno della MotoGP che è importante. E quello ha preso molte energie. Ma io penso che sia stato un po' quello il problema. Si è riuscito a fare in poco tempo... C'è stato poco tempo per lo sviluppo della nostra moto. Sicuramente l'anno prossimo con i nostri dati loro riusciranno a fare qualcosina di più interessante. Io però ho cambiato strada, ho cercato di andare su una moto più... Alla fine quella che ha vinto il Mondiale, quella di Elias, una Moriwaki, per non sbagliare, per essere più certo in questa cosa. E niente, il problema comunque è stato quello, forse il tempo per non sviluppare la moto. Raffaele, tu sei il primo napoletano che è riuscito ad affermarsi nel mondo del motociclismo che conta. Sei il primo napoletano che è salito sul podio. Cosa rappresenta per te essere un napoletano nel mondo del motociclismo? Ma io per qualche tempo... Napoletano è difficile comunque intraprendere la strada delle corse, delle moto perché... Nella nostra regione non ci sono infrastrutture, non ci sono piste. No, a parte quello proprio anche l'interesse, non è che ce n'è molto. Adesso molto, ma molto di più, però quando incomincio 5-6 anni fa non si conosceva niente. Solo il calcio, quindi ero appassionato di calcio. È stato molto difficile incominciare. Poi io sono molto felice di essere napoletano, anche perché è capitato anche di abitare un po' all'estero, un po' al nord, diciamo. Però non mi sono trovato benissimo, sto meglio a casa mia. Sì, alla fine sono un po' innamorato della mia città. Tanti ne parlano male, io invece cerco sempre di portarla un attimino un po' più su. Comunque sono contento di stare in questa città. Raffaele, tra i tanti circuiti del moto mondiale, raccontami quelli che...